Cresce la tensione a Hong Kong dove le autorità hanno chiesto agli studenti che stanno manifestando chiedendo le divisioni del governatore locale, il cui ultimatum è scaduto alle 18 ore italiana di giovedì di disperdersi in modo pacifico al fine di evitare conseguenze pesanti. Gli studenti temono azioni brutali e lo scambio della piazza da dove si trovano da cinque giorni consecutivi. Tra l'altro numerose sono state le manifestazioni in occasione dell'anniversario della indipendenza cinese.